Ora ad ascoltare Fatalità. Le note toccanti di questo brano descrivono come tutto possa cambiare in un attimo e capovolgere la vita di una qualsiasi persona, anche senza la sua volontà. E ancora un appunto per i più competenti. Anche qui l'introduzione c'è, ma gli elementi sono A, B e C. A, B e C. Un'altra massima del maestro Loseto. Le parole rispecchiano il momento. A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C. Con l'ultimo brano di oggi, intitolato pomeriggio d'estate, rilassiamoci pensando ai dolci momenti delle vacanze estive. Un altro appunto didattico. L'introduzione c'è anche qui. Gli elementi sono A e B ripetuti più volte e ci sono alcuni ponti di collegamento. Gli elementi sono A e B ripetuti più volte e ci sono alcuni. E ancora una massima del maestro Loseto è ancora una massima del maestro Loseto. Il successo è come la morte. arriva un momento inaspettato. Gli elementi sono A e B ripetuti più volte e ci sono alcuni. Gli elementi 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 sono alcuni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ascoltiamoci la sigla Era Destino. E su queste note Giulia vi saluta dandovi appuntamento a giovedì prossimo alle ore 17 circa sempre da Radio Titolo. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.